Ciao a tutti e benvenuti nel nostro nuovo video. Oggi ci immergeremo nei segreti e nelle rivelazioni di Chukurova. Una lettera inaspettata, un passato oscuro e un amore incondizionato. Cosa ha scoperto Giulea nello studio di Demir? Preparatevi, perché le cose stanno per diventare davvero interessanti. Non dimenticate di iscrivervi al canale e attivare le notifiche per non perdere nessuna delle nostre anticipazioni su Terra Amara. Iniziamo! Durante la cena a Villa Feikli, Mujgan interroga Fikret sulla durata della sua conoscenza con Umit. Lui le rivela che la conosce da circa un anno e mezzo, avendola avuta come cliente in Germania. Grazie a lei, ha ottenuto numerosi contatti lavorativi. Quando Mujgan domanda se era a conoscenza del trasferimento di Umit a Chukurova, per il ruolo di primario, Fikret nega di averlo saputo in anticipo. Beige osserva che la situazione sembra una coincidenza piuttosto curiosa. Feikli, incuriosito, chiede a Fikret se Umit potrebbe essere venuta a Chukurova per lui, ma Fikret smentisce, aggiungendo che, in ogni caso, entrambi sono liberi sentimentalmente e non ci sarebbe nulla di sbagliato. In seguito, Fikret, evitando di andare in azienda con Feikli, si dirige verso la tomba di Adnan. Con uno sguardo carico di rabbia, colpisce con forza la lastra di marmo che delimita la tomba. Un testimone osserva la scena da una certa distanza. Quest'uomo, dopo aver osservato l'azione violenta di Fikret, si precipita da Feikli per informarlo di quanto accaduto. Gli racconta di aver visto Fikret sollevare un grosso sasso e danneggiare deliberatamente la lapide. Inoltre, aggiunge di averlo notato anche quella mattina, mentre osservava la tomba con un'espressione di rabbia e colpiva con forza il marmo con i suoi pugni. Feikli, profondamente turbato da queste rivelazioni, si domanda quale possa essere il motivo del risentimento di Fikret nei confronti di Adnan Yaman. Il giorno tanto atteso è finalmente arrivato, Villa Yaman è splendidamente decorata per i matrimoni collettivi. Zuleya, con la sua grazia innata, accoglie calorosamente Feikli, Chetine e le rispettive famiglie. Nel frattempo, lo sguardo di Feikli si perde verso la finestra di un car, come se cercasse qualcosa o qualcuno. All'interno della villa, Gulten è un'immagine di pura bellezza nel suo abito da sposa. Sanie, che l'ha assistita nei preparativi, è soprafatta dall'emozione e alza gli occhi al cielo in un silenzioso ringraziamento per aver avuto l'opportunità di vedere Gulten raggiungere questo momento speciale. Gulten, con gli occhi lucidi, esprime la sua profonda gratitudine a Sanie per averla cresciuta e sostenuta fin da quando era una bambina orfana. Zuleya entra nella stanza, avvolgendo Gulten in un caloroso abbraccio e augurandole ogni benedizione e felicità nel suo nuovo capitolo di vita. Poco dopo, Gaffur fa il suo ingresso, visibilmente commosso nel vedere sua nipote in tutto il suo splendore nuziale. Con voce tremante, informa Gulten che Chetine è arrivato e la sta aspettando. All'esterno, Chetine attende con impazienza, circondato da Fekli, la sua famiglia e un allegro gruppo di musicisti pronti a festeggiare. Fikret si unisce al gruppo, scusandosi con Fekli per il suo ritardo e inventando una giustificazione al volo. E poi, il momento clou, le porte della villa si aprono e Gulten emerge, radiante nel suo abito bianco e con un velo che le copre il viso. L'atmosfera si carica di gioia e festa mentre la folla la accoglie con musica, danze e vivaci celebrazioni. Nella lussuosa villa Yaman, Zuleyha viene chiamata d'urgenza e scopre con sgomento che Rashid, il futuro sposo, è misteriosamente scomparso e non si è presentato per il matrimonio. Sevda, con un tono di voce preoccupato, suggerisce che forse Rashid ha avuto dei ripensamenti sull'imminente matrimonio. Zuleyha, cercando di mantenere la calma, ribatte che avrebbe potuto almeno comunicare le sue intenzioni, soprattutto considerando che Fadik lo sta aspettando, pronta e vestita da sposa. Nel frattempo, Fadik, con il cuore pesante, si affaccia alla finestra, sperando di vedere Rashid arrivare. Le sue preghiere silenziose sono interrotte dall'arrivo di Zuleyha, che cerca di consolarla. Zuleyha le suggerisce di guardare al futuro, sottolineando che forse Rashid non era l'uomo giusto per lei e che sicuramente troverà qualcuno che la meriti davvero. Fadik, cercando di trattenere le lacrime, assicura a Zuleyha che si riprenderà e che si unirà alla festa non appena si sentirà meglio. Inoltre, le chiede di mantenere il segreto e di non dire nulla a Gulten per non gettarla nello sconforto nel suo giorno speciale. Nella sontuosa villa Yaman, l'atmosfera è carica di aspettative e di emozioni. Gli ospiti sono elegantemente seduti ai tavoli, pronti per la cerimonia. Feekli, seduto accanto ad Emir, riflette sul passato e sull'indimenticabile figura di Unkar. Elogia Zuleyha per aver assunto il ruolo di padrona di casa con tale grazia e dedizione, sottolineando come Ciukurova stessa riconosca il suo impegno verso la comunità. Emir, con un tono malinconico, concorda, sottolineando come Zuleyha stia onorando la memoria di Unkar in maniera esemplare. Mentre la festa prosegue, Zuleyha si alza e si rivolge agli ospiti. Con voce ferma e carica di emozione, ricorda la tradizione annuale di Unkar di celebrare matrimoni collettivi, portando gioia e benedizioni a molte coppie. Sottolinea il suo impegno a perpetuare questa tradizione in onore di Unkar. Poi, con un sorriso caloroso, augura a tutte le coppie presenti una vita piena di felicità e amore. Il momento clou arriva quando Cetin e Gulten si siedono al tavolo per pronunciare i loro voti. Fadik, con il cuore pesante, osserva la scena da una finestra, il dolore evidente nei suoi occhi. Zuleyha e Fekli fungono da testimoni per la coppia. Quando Cetin e Gulten pronunciano il loro sì, l'atmosfera si carica di gioia e di festa. Nel frattempo, in un angolo appartato, Bey-Jé è in profonda conversazione con una donna misteriosa. La donna le conferma che l'abbocato di Bey-Jé ha ragione riguardo all'eredità di Yilmaz. Bey-Jé, con determinazione, le dice che deve assolutamente rintracciare quei soldi e promette una ricompensa generosa in cambio. La notte avvolge la villa Yaman, ma all'interno, le luci brillano e la musica risuona vivace. Gli ospiti danzano e ridono, celebrando l'amore e la gioia. Fadik, con passo incerto, si unisce alla folla. Zanie e Gulten, vedendola, si precipitano da lei. Con gli occhi lucidi e la voce tremante, Fadik confessa il suo cuore spezzato, rivelando che Rashid l'ha lasciata. Ma, con una forza sorprendente, decide di non lasciare che il suo dolore offuschi la serata. Dichiarando il suo desiderio di celebrare la felicità di Gulten e di lasciarsi alle spalle il suo dolore, Fadik si lancia nella danza, perdendosi nella musica e nell'abbraccio caloroso degli amici. Mentre la festa continua, Fikret si fa strada tra la folla e raggiunge Fekli. Con un'espressione seria, gli comunica che deve recarsi in fabbrica per supervisionare un carico importante destinato a partire l'indomani. Mentre la festa continua nella villa Yaman, un momento speciale si svolge, la tradizione dei doni agli sposi. Zuleya e Demir si avvicinano a Cetin e Gulten, e con un gesto affettuoso, Demir dona a Cetin dei bracciali d'oro, accogliendolo ufficialmente nella famiglia come suo fratello. Fekli, con gli occhi lucidi, si unisce a loro e, con una voce carica di emozione, esprime il suo desiderio che un caro Yilmaz potessero essere lì con loro in quel momento speciale. Augura agli sposi una vita piena di felicità e amore. Lontano dalla festa, Fikret si muove furtivamente nell'azienda di Demir. Con abilità, riesce a forzare una porta laterale e ad infiltrarsi all'interno. Una volta dentro, si dirige direttamente nello studio di Demir. Con un rapido sguardo intorno, lascia sulla scrivania una busta contenente alcune foto, immagini di lui e di sua madre, e una lettera. Prima di uscire, i suoi occhi si fermano sulla foto di Adnan appesa al muro. Un'ombra di rancore attraversa il suo volto prima che si allontani silenziosamente. Dopo l'entusiasmo e la gioia dei festeggiamenti nuziali, l'atmosfera diventa più intima e riflessiva. Sevda si avvicina a Zuleya, lodandola per l'ottima organizzazione e per aver mantenuto viva una tradizione così cara alla famiglia. Demir, con uno sguardo pieno di ammirazione, si unisce alla conversazione. Le dice che Unkar, se fosse stata lì, avrebbe guardato Zuleya con grande orgoglio. Poi, con un tono sincero, le fa i complimenti per come ha gestito tutto, definendola la nuova matriarca di Chukurova. Zuleya, con umiltà, risponde che tutto ciò che fa è ispirato agli insegnamenti e ai valori che Unkar le ha trasmesso. Nella tranquillità della villetta, Cetin e Gulten condividono un momento intimo. Cetin, guardando negli occhi Gulten, le confessa che la sua presenza ha dato un senso alla sua vita e promette di proteggerla e amarla per sempre. Nel frattempo, in un altro angolo della casa, Gaffur e Sanie condividono un momento di profonda gratitudine e amore. Gaffur, con gli occhi lucidi, esprime la sua riconoscenza per tutto l'amore e il sostegno che Sanie ha dato a Gulten e a lui stesso. Sanie, toccata dalle sue parole, gli assicura che, nonostante le sfide, il loro amore è sempre stato la sua forza. Mentre la notte avvolge la villa, Zuleya, immersa nei suoi pensieri, si ritrova a osservare Demir attraverso l'apertura della porta della sua camera. Il suo sguardo riflette una mescolanza di affetto, desiderio e riflessione sul loro complicato rapporto. Mentre la notte avvolge la villa, i pensieri di Mujgan sono turbati dal ricordo del bacio inaspettato di Fikret. Le emozioni si mescolano nella sua mente, tra sorpresa, confusione e una strana sensazione di desiderio. Nel frattempo, Fekli, con il cuore pesante, si trova davanti al ritratto di un car, versando lacrime silenziose per la donna che ha profondamente amato e perduto. Fikret, invece, è al cimitero, immerso nei suoi pensieri, davanti alla tomba di Adnan, un luogo che evoca in lui sentimenti contrastanti e tormentati. Al suo ritorno, l'atmosfera in casa è tesa. Fekli, con uno sguardo penetrante, cerca di sondare l'animo di Fikret, cercando di capire cosa si nasconda dietro le sue azioni recenti. La domanda sul perché abbia danneggiato la lapide di Adnan pende nell'aria, carica di tensione. Fikret, con voce ferma ma carica di emozione, rivela il suo risentimento verso Adnan, l'uomo che, secondo lui, ha portato via un car e ha cresciuto un figlio come Demir, responsabile delle sofferenze di Yilmaz. La rivelazione lascia Fekli sorpreso e preoccupato, cercando di comprendere la profondità del rancore di Fikret e le possibili ripercussioni future. Il sole sorge su Villa Yaman, e la giornata inizia con un'atmosfera familiare e accogliente. Zuleya e Demir, in un gesto di ospitalità, invitano gli sposi, Gaffur, Sanie e anche Fadik a condividere una colazione insieme. Mentre il cibo viene servito e le risate riempiono l'aria, Demir informa Zuleya che sarà assente per l'intera giornata e le chiede di rappresentarlo in una riunione aziendale. Più tardi, quando Zuleya entra nello studio di Demir, il suo sguardo cade su una busta non familiare. Curiosa, la apre e inizia a leggere il contenuto. La lettera, scritta da Adnan Yaman, rivela dettagli sconvolgenti di un passato oscuro. Adnan parla di una relazione clandestina con una donna e delle voci riguardo a un figlio nato da quella relazione. Con toni minacciosi, Adnan insiste sul fatto che Demir è il suo unico figlio e avverte la donna di non diffondere voci false, altrimenti affronterà gravi conseguenze. Mentre Zuleya legge, un'ondata di emozioni la travolge, shock, incredulità e curiosità. La lettera apre una nuova prospettiva sul passato di Adnan e sulle dinamiche familiari dei Yaman. Grazie mille per aver seguito con noi queste emozionanti anticipazioni di Terra Amara. Se vi è piaciuto il video, lasciate un like e condividetelo con gli amici. E voi, cosa ne pensate delle ultime rivelazioni? Lasciate un commento qui sotto e fateci sapere le vostre teorie. Non dimenticate di iscrivervi al canale per rimanere sempre aggiornati su ogni twist e svolta della storia. Alla prossima!